ciao a tutti sono luca bike manager di altopiano outdoor e lui è il mio fedele abbraccio destro ciao lorenzo abbiamo appena finito in questo momento di pianificare la traccia del nostro prossimo viaggio e partiremo proprio oggi da qui da trescheconca e con un bellissimo percorso attraverseremo tutto il nostro altopiano con la nostra bicicletta ovviamente la nostra tenda e le nostre borse e tutto quello che ci serve se volete seguirci stiamo proprio partendo in questo momento via ed eccoci arrivati la minestra è calda ti sei divertito? molto allora adesso non è il momento di scherzare solo se saremo uniti riusciremo a debellare questo maledetto virus che ci sta veramente cambiando la vita e ce la sta in parte anche rovinando ma solo se saremo uniti e se rispetteremo le semplici e poche regole riusciremo a uscirne sicuramente più forte di prima e soprattutto riusciremo a tornare a fare quello che più ci piace camminare pedalare vivere i boschi vivere le montagne e soprattutto il nostro magico altopiano di asiago dei sette comuni noi per il momento io lorenzo ce lo guardiamo così in televisione ragazzi mi raccomando restate a casa il messaggio è uno solo fate come me fate come lorenzo io resto a casa seguite gli hashtag seguiteci un abbraccio e forza solo se saremo uniti riusciamo a uscirne fuori ciao